Sandorio-Gaslini è un binomio che dura da tanti anni. Io mi ricordo quando iniziavo a giocare in prima squadra che veniamo qua ed è un piacere fare delle cose per poter poi appunto donare sia strumenti che sono lì perché è un istituto all'avanguardia, è un istituto che ha riconosciuto tutto il mondo quindi è un grandissimo onore poter essere poter evitare il gaslini. Torni di foot golf è stata una piccola cosa credo che si possa ripetere magari con dei tempi un po' più tranquilli visto che quest'anno è stata una cosa fatta molto rapidamente e devo ringraziare tutta la parte comunicazione e marketing della Sandorio perché ha immato una grandissima mano. È un'idea che ho avuto nel 2016 in cui grazie sempre a uno sponsor dell'epoca avevo comprato una macchina sempre per il reparto di astrologia perché diciamo che mi lega a questa amicizia con il professor Ramenghi diciamo che credo che sia una bella cosa perché è un evento che è divertente per chi lo gioca per chi partecipa e appunto poi diciamo che quest'anno anche devo ringraziare gli sponsor che ci hanno accompagnato e hanno permesso appunto di poter fare questa donazione al gaslini e spero appunto ci siano delle tante altre edizioni e che possa diventare un po' una pietra miliare nella Sandorio e nel circuito delle manifestazioni a carattere benefio. Video laringoscopio ovvero un laringoscopio classico al quale è attaccata una microcamera che ti permette di vedere su un monitor di fianco cosa sta succedendo quando abbassi la lingua e cerchi di raggiungere la trachea e quindi anche l'inizio della trachea che è la galottide. Normalmente noi esercitiamo un po' di pressione per vederla direttamente alla mia età ci si sposta anche un po' così per identificarla e differenziarla dall'esofago se uno non respira devi mettere il tubo nella via respiratoria per respirare per lui e queste sono cose che facciamo anche sui neonati tantissimo anche sui neonati prematuri che hanno insufficienza d'organo e quindi fanno fatica respirare e quindi li si attacca ad un ventilatore meccanico. Questo è reso tutto molto più facile meno stressante soprattutto per chi riceve l'atto di intubazione ma vi assicuro anche per chi lo esercita grazie a questo video laringoscopio che ci aiuterà sicuramente tantissimo. Quindi è uno strumento molto moderno molto ambito ci tenevamo tantissimo e ci fa piacere che sia questo pool di sponsor capitanato come diciamo dalla Sampdoria e quindi vi diciamo grazie